Sai che la tua macchina soft è dotata di componenti che devono essere sostituiti regolarmente per mantenere performance elevate, garantire prodotti di alta qualità, massimizzare profitti ed estendere la vita della macchina? Questi componenti fondamentali si chiamano parti consumabili, ossia le parti della macchina che puoi sostituire facilmente in completa autonomia. Vediamo quali sono. Raschianti e componenti dell'agitatore, per prestazioni ottimali. Ingranaggi pompa, per un overrun sempre perfetto. Carpi Care Kit, l'insieme delle guarnizioni, o-ring e altre componenti per un'igiene della macchina al massimo livello. Brushes Kit, il set di spazzole delle dimensioni corrette per pulire a fondo ogni componente. Chi può sostituire le parti consumabili? Le parti consumabili sono facilmente sostituibili dall'operatore stesso durante uno dei lavaggi programmati. Non è necessario l'intervento di un tecnico. Perché sostituire le parti consumabili? Raschianti e ingranaggi sostituiti regolarmente garantiscono prestazioni elevate e prodotti di alta qualità. I raschianti assicurano la migliore efficienza di raffreddamento e qualità del prodotto. Se usurati, causano l'aumento del tempo di erogazione e del tempo di recupero. Gli ingranaggi garantiscono le migliori performance della pompa. Se usurati, provocano la diminuzione di overrun e di conseguenza di guadagno su ogni cono. L'usura dei raschianti e degli ingranaggi è visibile anche a occhio nudo. Carpi Care Kit e Brushes Kit consentono di mantenere la macchina sempre igienicamente perfetta. Il Carpi Care Kit mantiene l'igiene della macchina ai massimi livelli. Inoltre, mettendoti a disposizione un ricambio per le parti che si possono perdere o danneggiare durante le operazioni di pulizia, evita fermi macchina. Il Brushes Kit consente di pulire a fondo ogni componente della macchina, assicurando la massima igiene. Quando sostituire le parti consumabili? Raschianti dell'agitatore ogni 6 mesi, ingranaggi pompa ogni 12 mesi oppure 75.000 porzioni. Carpi Care Kit ogni 6 mesi, Brushes Kit ogni 6 mesi. Quali parti consumabili servono alla tua macchina? Inquadra il QR code sulla tua macchina per accedere alla pagina dedicata al tuo modello sul sito Carpigiani Service. Nella sezione di manutenzione ordinaria troverai la lista dettagliata delle parti consumabili e la frequenza con cui devono essere sostituite. Inoltre, nella sezione video tutorial sono disponibili video tecnici dedicate alle operazioni di pulizia, montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria per la maggior parte dei modelli. Dove trovare le parti consumabili? Puoi acquistare le parti consumabili rivolgendoti al tuo concessionario Carpigiani di fiducia o direttamente sul sito shop.carpigiani.com.